Welcome to Meet & Match, a digital fair by Linea Pelle. At Brand Now we introduce today C-Cherp. Ciao a tutti, questo è Stefano Parotti da C-Cherp Tannery e Italian Tannery. Siamo qui per presentare la nostra nuova collezione, l'anno scorso e l'anno 2002. Le soluzioni di innovazione sono il punto clave di C-Cherp. Potete parlare di questo? Sì Matteo, grazie per chiederti. La soluzione di innovazione di C-Cherp in termini di ecossostenibili per l'area di lato, è il punto clave della nostra collezione. Abbiamo qui un articolo di Petalo. Il articolo di Petalo è l'article che abbiamo presentato l'ultima settimana per la prima volta con una sostenibile lettera e abbiamo deciso di rinnovare una collezione con questo tipo di articolo. Petalo è una sostenibile lettera che rinnoviamo da una sostenibile lettera che utilizziamo per la sostenibile e abbiamo iniziato a creare un articolo di doppia faccia, in questo momento un articolo di doppia faccia, in cui abbiamo inserito e abbiamo inserito due diverse articoli. Leather e, per esempio, Lycra. Un articolo di riciclo è un articolo di riciclo per mantenere la garantia completa del articolo sostenibile. Abbiamo deciso di sviluppare alcuni articoli con il concetto di ecossostenibile e abbiamo deciso di mettere due tipi di materiale insieme con il articolo di Petalo. Alcuni materiali sono un articolo di riciclo, un articolo di riciclo, un articolo di riciclo, un articolo di riciclo, un articolo di jeans, un articolo di net, un articolo più sportivo per il mondo che è molto popolare in questo momento. E abbiamo deciso di mettere anche un articolo di riciclo, anche un articolo di ecossostenibile, con un articolo di traforate, un articolo di riciclo e un articolo di riciclo. Dopo il Petalo abbiamo un nuovo concetto del concetto di suede, che possiamo vedere qui. Abbiamo qui il suede cron-free e abbiamo due versioni, il suede cron-free e il double face cron-free, perché pensiamo e abbiamo iniziato a sviluppare più articoli del double face per il double use. Dopo queste due parole di articolo di ecossostenibile, ora vi mostro un'altra parte della nuova collezione. Qui abbiamo qualche parte della nuova collezione. Possiamo iniziare con Nappa, Nappa Printing. Nappa Metal Free è anche un nuovo articolo. E qualche tipo di lavoro e design su Nappa. Metallico, come tamponato. E il nostro soft Nappa Cashmere, con una alta profonda. Cashmere è una nappa molto soft e alta profonda. Nappa. E abbiamo altre Nappa con patente di acqua, quindi patente di natura e non solvente. E qualche printing sull'acqua. Il effetto di jeans di reale Nappa Leather. E digital printing, UV printing su Nappa. Quindi, qui abbiamo finito di presentare il gruppo principale dei nostri articoli per l'esprende del 2002. E ci stiamo aspettando per voi nel nostro tannere o nel nostro showroom. Potete trovare tutti i dettagli sul nostro sito. Per qualsiasi domande potete contattarci con noi. Grazie a tutti. Grazie Matteo per inviare a presentare la nostra collezione. E ci stiamo aspettando per voi. Ciao. Ciao ciao. Grazie mille. Abbiamo visto una bellissima collezione qui. Grazie a Stefano e a C-Company. Grazie Matteo e a Linea Pelle. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.